Intanto partiamo dai dati del consenso. Il centrodestra unito è vincente rispetto a Renzi e al suo partito democratico. Ormai tutti i sondaggi danno il centrodestra unito sopra il partito democratico di Renzi. Da questo punto di vista occorre evidentemente perfezionare questa alleanza che tra l'altro dura dal 94 e che ci vede governare in numerosissime regioni, dalla Lombardia al Veneto alla Liguria e nel passato il Piemonte, che ci ha portato a dieci anni di governo insieme, dei 21 della seconda repubblica. Per cui da questo punto di vista io vedo un'alleanza all'interno del centrodestra inevitabile, oggettiva, presente. Ci sarà un cantiere ovviamente del programma, un cantiere di proposte e un cantiere anche per quanto riguarda le candidature per le prossime elezioni amministrative nei comuni. Quindi da questo punto di vista grande certezza e anche grande certezza rispetto alle riforme in discussione oggi al Senato e comunque in Parlamento.